Io sono molto contento. Penso che la sezione è molto importante e lunga. Il campionato è molto difficile perché 30 partite è molto difficile. Le tre prime partite sono molto difficili anche perché tutte le squadre sono molto belle e tutti gli allenatori sono molto interessanti, propongono un buon livello di calcio, è molto interessante. Questa partita è una partita molto importante, tutte le partite sono importanti. Secondo me la partita contro Ravenna è una grande battaglia fisica. Noi siamo pronti per la battaglia, è possibile fare molto migliore. Tatticamente lavoriamo tanto, aspettiamo un po' per giocare il migliore calcio. Mio italiano, tanto lavoro.